Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna sono chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Per questo motivo si sono formati due chilometri di coda tra Incisaregello e Firenze Imprunita e rallentamenti tra Firenze Imprunita e Firenze Scandicci. Fare inoltre attenzione per nebbia a banchi segnalata tra Rioveggio e Aglio. Sulla variante di Valico l'area di servizio di Badia Nuova Ovest in direzione Roma è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze Imprunita. Sulla statale Trebbis-Tiberina per lavori chiuso in entrata e uscita allo svincolo di Sansepolcro Sud in direzione Roma. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!